Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the screaming of the soul? Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai ci siamo! Intanto buon compleanno a Fortnite proprio oggi 25 luglio cade il secondo anniversario del Battle Royale. Già vediamo ovviamente in game il bus della battaglia con tanto di musichetta simpaticissima dell'Happy Birthday e oggi ragazzi il primo pomeriggio indicativamente arriveranno anche le sfide finalmente con i 4 premi gratuiti che non vediamo l'ora ovviamente di ottenere. Ma nel video di oggi ragazzi parleremo ancora dell'evento. Sappiamo il nome delle modifiche alla sfera in game e infatti parliamo di sfera destabilizzata. Vi farò vedere un filmato e dei codici molto interessanti. Ma parleremo anche come detto nel titolo della possibilità di ottenere una delle skin più rare di Fortnite, il Dark Vertex, e anche una delle più costose ad un prezzo davvero super. Parleremo oltre delle sfide di compleanno anche di tutta la World Cup. Oramai la febbre è dilagata a New York principalmente, ma in tutto il mondo, Giappone, Cina compresi, che stanno veramente già festeggiando da giorni quello che sarà l'evento videoludico più importante del mondo dedicato ad un singolo videogioco. Vi terrò sempre aggiornati, saremo anche in live durante la World Cup, non ho più voce. E ovviamente anche oggi vi darò delle informazioni super super importanti. Prima però ragazzi volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator. Xiodarone, grazie di cuore per supportarmi nello shop quando scioppazzate di prepotenza. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto... ...attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima vi devo fare la domandina raga, ci tengo tantissimo anche ieri, ci ho messo un'ora a mettervi i cuoricini e i commenti del canale ieri del video ragazzi e la domanda di oggi mi farà sicuro esplodere i commenti, quelli proprio qua sotto. Signori, vi lancio la bomba. Qual è la tua season preferita? Eh, oramai siamo arrivati, oramai siamo arrivati alla fine della season 9 e devo farvela questa domanda e la mia ragazzi è la season 6. Davvero meravigliosa, ve l'avevo già detto un po' di tempo fa. Modifiche alla mappa in tutta la season, fantastico. I mostri per la prima volta, le schiena tema di Halloween, insomma ragazzi. Per me la season 6 è stata epica, reputo essere l'ultima grandissima season di Fortnite che abbiamo avuto la fortuna di giocare. Ditemi quindi ragazzi la vostra preferita qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a parlare finalmente della World Cup. Allora, si suddivide ragazzi in più giorni. Il primo giorno utile è venerdì il 26, il primo giorno importante. Perché ci saranno le finali della modalità creativa e del Pro AM. Quindi già un bel po' di nomi importanti saranno visibili ovviamente in streaming, nei canali dedicati. I canali ragazzi, vi metterò il link nel momento in cui attiveranno la diretta sulla mia pagina Instagram perché adesso mi è impossibile darvi il link preciso in quanto non è ancora disponibile. Quindi non abbiate paura. 18 e 30 di venerdì, la prima fase. Oh! Ma che cavolo! Ma che... Che sei! Ma che cazzo! Asp... Ma vai! Prima fase importante ragazzi del... Io non posso fare queste cose. Che cosa stava volando? Della World Cup ragazzi. Le cose più importanti poi ovviamente il 28 luglio che sarà domenica ci saranno le finali delle duo e del singolo che è quello ovviamente più importante. Vi ricordo che quando vi darò il link, mi viene da ridere, quando vi darò il link ragazzi dovrete se volete ottenere le ricompense guardare per 20 minuti la diretta in questo modo da YouTube. Mi raccomando, non guardatele da Twitch perché se avete l'account collegato da YouTube dovete farlo su YouTube. In questo modo vi verranno automaticamente dati giorno per giorno i premi importantissimi. Tra l'altro per quanto riguarda anche le World Cup c'è una cosa super interessante, delle skin rarissime che verranno proposte a partire probabilmente dallo shop di oggi e che non verranno mai più messe disponibili per l'acquisto. Stiamo parlando ragazzi della skin Warrior Cup che è la tizia mentre abbiamo già ricevuto tutti il pesce secco nello stile della World Cup tra l'altro potrebbe ragazzi tornare in questi giorni anche il pesce secco per dare la possibilità, è quasi certo che torni, per dare la possibilità a chi non l'ha ricevuto di ottenere lo stile della World Cup. arriverà anche l'emote Kiss the Cup che non abbiamo purtroppo immagini e non sappiamo com'è perché è ancora criptata che sarà disponibile solo per un giorno probabilmente non oggi ma domani e poi non verrà mai più proposta. Quindi mi raccomando non perdete l'occasione di ottenere, come vedete qua ad esempio lo stile del pesce secco, tutte le cose esclusive della World Cup. Non mi partono neanche più oramai le cose. Vabbè, allora andiamo avanti. Facciamo che questo era l'effetto visto che non ha più voglia di partire e andiamo avanti ragazzi invece parlando del compleanno di Fortnite, molto più importante come roba tangibile per noi, il compleanno di Fortnite numero 2 che come vedete già esplode in Giappone e in Cina con delle immagini ufficiali interessantissime, super super belle per quello che riguarda appunto i festeggiamenti. Abbiamo anche delle fan art ma quello che a noi interessa è questa, le quattro sfide che ci daranno una volta completate tutte il piccone del compleanno che ovviamente sarà uno dei più rari del gioco in quanto non avrà altra occasione di uscire. Vi ricordo ragazzi che oggi nel primo pomeriggio probabilmente potrebbe tardare leggermente la live perché vi caricherò tutte le posizioni delle torte di compleanno dove dovrete ballarci davanti perché ci sono due sfide che parlano di torte. di compleanno la seconda guadagnare salute e shield dalle torte di compleanno quindi non avviate paura perché tutte le posizioni ve le dirò prestissimo arriveranno anche i regali sotto forma di piccoli pacchetti se avete giocato nella season 7 dove c'erano gli stessi regali ma a tema natalizio sapete sicuramente che sono delle piccole scatolette che di rarità leggendaria possono essere lanciate e diventano dei regali giganti da rompere per guadagnare legna innanzitutto e per ottenere dentro un loot super super interessante si parla anche di due armi leggendarie alla volta. Ma andiamo avanti ragazzi con l'argomento più interessante anche di quelli trattati oggi che è il dark vertex 300 euro costava l'xbox costa l'xbox in versione super limitata quindi viola con dentro la skin del dark vertex e il bundle comprendeva anche i 2000 v bucks ma come già è successo per altre skin purtroppo per tutti quelli che si sono presi la briga di spendere i soldi e quindi di ottenere la console con la skin arriva la mazzata diretta come vedete sopra la mia testa si legge subito 500 v bucks beh ragazzi arriverà prestissimo questo nuovo pack che è il controller per l'xbox come vedete di colore viola e anche questo in versione super limitata che però conterrà il codice del dark vertex si parla di una cifra che secondo me non supererà le 40 50 euro potrebbe stare più verso le 40 quindi un risparmio di 250 euro qualora vorreste voleste ottenere un controller che è funzionale anche per il computer perché io ho il controller che non uso dell'xbox one e si può tranquillamente configurare con il computer essendo Microsoft tutti e due quindi non ci sono problemi è un'occasione davvero da non perdere se volete ottenere una delle skin più rare e costose del gioco più raro oramai mica tanto beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi gli aggiornamenti purtroppo non ho avuto modo di parlarvi della sfera ma ne avremo modo domani non preoccupatevi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao